Siamo partiti carichi, vogliosi, determinati, perché abbiamo chiuso un 2016 importante con dei risultati e delle prestazioni anche importanti. Ci teniamo in particolar modo a continuare su questa scia che il 2017 sia un anno importante per il Crotone. Sappiamo che per il popolo crotonese il 2016 è stato un anno storico e io con collocazione comunque per fare i miei migliori auguri a tutti i tifosi per un 2017 magnifico e auguro davvero tante gioie e che sia davvero un anno importante. Si è formato quasi un mini campionato a quattro, ovviamente dobbiamo essere bravi a fare dei punti soprattutto negli scontri diretti. Adesso comunque appena iniziere il giorno di ritorno abbiamo sicuramente uno in casa contro il Bologna che per noi è importantissimo, poi abbiamo quello contro l'Empoli. Comunque sono tutte sfide che noi cercheremo di arrivare nel migliore modo possibile, però la Serie A è tutta molto difficile, le partite sono tutte difficili da affrontare, però noi siamo qui pronti e ce la metteremo tutta per portare questo sogno a casa. Alessio Buonpasso per la Cineus24.